L'uomo simbolo del secondo millennio, fra le altre cose è un personaggio che è nato a Vinci, si è configurato un po' come un extraterrestre, come un superuomo. Leonardo guarda prima la terra che cammina e poi progressivamente tutti i fenomeni dell'universo che lo circonda e infine sogna di volare. Nelle macchine più complesse come nel d'ultaplano troviamo dettagli che, in maniera straordinaria, Leonardo aveva intuito oltre cinque secoli orzonti. In maniera esaltante conferma le infinite possibilità dell'essere umano. Prawdziwa Ewa Jeżeli nasi przodkowie przepravili się przez Malezję 74 tysiące lat temu, to być może przetrwali tu ich potomkowie. Prendziwa Prendziwa